Benvenuti, cari follower. Prima di entrare nei dettagli, se sei un fan della neve, premi il pulsante Mi piace per questo video, così possiamo sapere quante persone amano la stagione invernale. Grazie. Se tutti i modelli meteorologici digitali globali fossero d'accordo, indica l'arrivo di una massa molto grande di aria fredda sull'Europa sud-occidentale alla fine di ottobre 2024. Questa massa molto fredda dovrebbe interessare l'Italia nei primi giorni del prossimo novembre, con una forte ondata di freddo, gelo e grandi quantità di pioggia e forti nevicate e forti tempeste di neve. Come dicevo, tutti i modelli meteorologici digitali globali concordano e indicano l'arrivo di aria polare molto fredda in Italia. Ma c'è una differenza nel definire le zone interessate dalle nevicate. Poiché le previsioni parlano di forti tempeste di neve al nord e al centro Italia, al sud si verificheranno ancora forti tempeste di neve. Quindi, riassumendo il discorso, in Italia arriva l'inverno con neve e gelo. Restate sintonizzati per maggiori dettagli riguardanti le aree interessate dalle nevicate più avanti, quando il periodo si avvicina.